Lo sapete che il 70% della legislazione italiana è di derivazione europea? Il nostro futuro si decide a Strasburgo. I grandi temi europei si riflettono in quello che è lo sviluppo dei nostri territori, motivo per cui alle prossime consultazioni europee dell'8 e del 9 giugno ho deciso di scendere in campo con Forza Italia nel Collegio Sud mettendo a servizio passione, determinazione, responsabilità, esperienza e tanto tanto studio, dando voce ad un Sud e alle stanze della sua gente che diventino sempre più centrali e protagoniste in Europa. Mi piace lavorare con voi e per voi, per un'Europa che sia meno rigida, meno distante, più vicina al Sud, ai territori e loro potenziale. Dare voce al Sud significa dare concrete opportunità ai nostri giovani, significa essere incisivi in Europa riguardo i grandi temi che toccano da vicino il nostro Sud. Penso al lavoro, penso all'istruzione, penso all'università, alla ricerca e ad una formazione che deve essere sempre più qualificante e professionalizzante. Penso all'agricoltura e cambiamenti climatici, alla desertificazione, alla siccità che dobbiamo scongiurare. Penso al Mediterraneo che deve diventare una risorsa per il nostro Sud e per il paese tutto. Penso alle energie rinnovabili che rappresentano un forte potenziale per il nostro territorio e alla transizione energetica che ne è connessa. Penso alle imprese su cui dobbiamo intervenire con un fisco più agevolato. Penso alla pesca e a tantissimi altri temi. Vi chiedo dunque fiducia per poter rappresentare in Europa il Sud, la sua gente, i suoi valori. Mi impegnerò sin da ora a farlo con responsabilità, con competenza, con autorevolezza, ispirandomi agli ideali del Partito Popolare Europeo, rendendo centrali valori come l'equilibrio, la moderazione e i diritti legati disolubilmente alla dignità della persona. Io ci credo, credeteccio anche voi, camminiamo insieme per un Sud sempre più trainante per il Paese e il protagonista in Europa.